Progettato da Antonio Sangallo nel 1532 su volere di Papa Clemente VII, il bastione che oggi sorge a fianco della stazione ferroviaria di Fano è uno dei tanti monumenti unici e storici nella città fanese. La struttura, che nasceva a scopo difensivo, fu portata a termine nel 1552 da Luca da Sangallo nel periodo del pontificato di Giulio III, il cui simbolo campeggia ancora nello sperone. Internamente si divideva in due livelli, uno più alto, da dove le artiglierie avevano modo di controllare mare e spiaggia, e uno più basso, per la parte opposta. Ad oggi questo luogo è aperto al pubblico, sia per visitarlo ma anche per viverlo, grazie ai tanti eventi culturali organizzati dalle associazioni al suo interno. Ma con il passare del tempo alcune zone sono diventate ammalorate, come il marciapiede e l'accesso in legno per i disabili. Proprio per questo sono in programma, per dopo l'estate, degli interventi di riqualificazione. Partiranno quelli che sono la riqualificazione, quindi la realizzazione di tutta una nuova rampa d'accesso nella parte alta del bastione, proprio per favorire l'accessibilità di tutte le persone con disabilità, che oggi è molto ammalorata. Poi avremo tutta una nuova pavimentazione invece nella parte sotto del bastione, proprio qui di fianco, dietro alle mie spalle, diciamo, con materiale levocel, che è lo stesso che utilizziamo, abbiamo utilizzato sopra la darsena, e con un'illuminazione architetturale suggestiva, quindi con l'illuminazione che spara dall'alto, proprio come quella del pincio, proprio perché vogliamo valorizzare questo luogo. Inoltre il Comune ha intenzione di riprendere in mano un vecchio progetto redatto nel 2006, che ha come intento quello di migliorare la connessione con la parte alta del bastione con quella bassa, attraverso la realizzazione di una nuova scala e uscite di sicurezza. Sicuramente è un lavoro da riverificare perché quel vecchio progetto non fu sottoposto alla sovrintendenza dei Vigili del Fuoco, per cui sarà il motivo per il quale daremo un nuovo incarico ad un nuovo progettista, grazie al quale migliorerà sia la fruibilità ma anche la capienza di questo luogo. E questo è il motivo per cui tutti i luoghi della città che hanno un prestigio di storia hanno la necessità di essere vissuti.